L'Assemblea regionale ha approvato la finanziaria in prospettiva, attesi i trasferimenti da parte dello Stato. I dettagli, Gero Miciche. Dopo dieci giorni di esame d'oltranza, l'Assemblea regionale ha approvato la legge di stabilità a termine dei due mesi, gennaio e febbraio, di esercizio provvisorio del bilancio. A Salavercole 49 sono stati i voti a favore, 21 i contrari e 3 gli astenuti. Il bilancio della regione per il 2016 ammonta circa 22 miliardi. La finanziaria in particolare taglia 400 milioni e congela 500 milioni di spesa, che sono i soldi attesi già da tempo da Roma nell'emore della conclusione della trattativa in corso con lo Stato in materia di entrate fiscali. E si tratta di mezzo miliardo di euro assolutamente indispensabili. Infatti è circa metà del finanziamento destinato ai comuni e alle ex province per i precari degli enti locali, per i PIP, per i forestali. Se tale somma dovesse mancare, è facile immaginare le conseguenze che ne deriverebbero, già peraltro testimoniate dello sfacelo finanziario che affligge tanti enti locali. Per la prima volta, nel rispetto dell'impegno assunto dal presidente Giovanni Ardizzone, l'Assemblea non ha votato le norme della finanziaria nelle sedute notturne. E sono stati mantenuti anche gli impegni sull'ex tabella H, ossia l'elenco dei contributi a pioggia, spesso di origine e contenuto clientelare, diretti a enti e associazioni. Infatti, la tabella H è stata cancellata, grazie anche al Movimento 5 Stelle che si è battuto per la soppressione e i relativi finanziamenti, che ammontano a 12 milioni e 300 mila euro, saranno posti al bando. Per quanto riguarda le società partecipate dalla regione, è stata bocciata con voto segreto la norma sul tetto massimo degli stipendi dei dirigenti, su cui si è ipotizzato come esistente un accordo trasversale che invece non ha retto alla prova in aula. E poi ancora l'Assemblea ha salvato Riscossione Sicilia, la società che recupera i tributi nell'isola, scongiurando il paventato assorbimento in Equitalia. Nel dettaglio, è stata approvata la norma che ricapitalizza Riscossione S.p.A. con 13,2 milioni di euro. Infine, come già annunciato tra gli emendamenti, la società Sicilia e Servizi, diretta da Antonio Ingroia, non ha più il monopolio dei servizi informatici. La regione potrà avvalersi anche dei privati nella gestione dei servizi informatici.